Buongiorno e buon fine settimana da Sicilia 24, oggi sabato 10 settembre, come tutte le mattine andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani stamane, quindi andiamo a vedere, ad analizzare le prime pagine, a scoprire le anticipazioni e gli argomenti principali. Cominciamo subito il nostro giro, partiamo dal quotidiano la Sicilia, in primo piano c'è il nuovo re d'Inghilterra, eccolo qui, il discorso del re, questo il titolo, mentre il Regno Unito piange Elisabetta, il nuovo re Carlo III pronuncia in tv l'atto di lealtà diretto al suo popolo e tornerà spesso in tante prime pagine questa mattina appunto Carlo III, ma c'è spazio chiaramente per altri argomenti altrettanto importanti, Europa sul gas manca la maggioranza, palla adesso a Bruxelles, Ministri dell'Energia ok da 15 paesi, martedì la proposta, Mattarella subito l'intesa. E poi a proposito di politiche, in questo caso di energia, Giorgia Meloni dice Price Cup nazionale, Salvini invece no, 30 miliardi. E poi in vista delle regionali, Fratelli d'Italia in testa, PD Leggero Calo, Lega e Movimento 5 Stelle viaggiano alla pari e da oggi lo stop ai sondaggi, in vista delle regionali, ma soprattutto in vista delle politiche, perché ricordiamo che il 25 settembre in Sicilia c'è l'Election Day, si vota dunque sia per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Regione, ma poi anche per le politiche nazionali. Scattato il divieto di pubblicare numeri e percentuali, silenzio adesso fino al giorno del voto, giorno del voto che si sta pian piano avvicinando. Cronaca Casteldi Udica, avvocato aggredito in casa, morto in ospedale, l'autopsia chiarirà se è stato un tentativo di rapina. Andiamo in taglio alto, si parla di calcio, nello specifico del Catania, serie D, varato il calendario, il Catania il 18 settembre esordirà a Ragusa e in bocca al lupo, ovviamente ai rossazzurri. Il giro delle città sulla quotidiana la Sicilia, come ogni mattina partendo da Catania, comune portoghese e il commissario, trasporti, si parla di aeroporti, Catania supera a Fiumicino, Motta, Sant'Anastasia, Valanghe d'inverno resti operativa e poi Taormina, bar sotto il comune, deve 530 mila euro. Lasciamo la Sicilia, ci spostiamo adesso sul giornale di Sicilia, c'è la politica, sotto i riflettori si parla di centrodestra, Schifani in sintonia con Roma, sono le parole di Silvio Berlusconi che dice il centrodestra vincerà le politiche e il nostro autorevole candidato saprà trattare alla pari col futuro governo, per i rifiuti i termovalorizzatori sono la soluzione, queste le parole del Cavaliere. Ancora politica letta col bus elettrico nei seggi in bilico, questa è la campagna elettorale del PD, assemblea del Lanci senza bilancio, 300 comuni su 390, anche in questo caso situazione tutt'altro che confortante. E ancora candidati ai raggi X, la battaglia per conquistare l'Ars passa anche dai social, ormai si fa campagna elettorale, si fa politica anche sui social, ce l'abbiamo visto tanti esponenti politici sbarcare anche su TikTok, ad esempio proprio lo stesso Silvio Berlusconi. Ampio spazio in taglio centrale per il Palermo, ieri vittoria importantissima contro il Genova nel campionato di Serie B, torna super Brunori, affondato il Genova, risultato importante 1-0 di misura ma 3 punti d'oro per il Palermo che dunque riparte dopo un paio di sconfitte, un paio di prestazioni non certo positive. E ancora in taglio laterale, UE divisa, Unione Europea chiaramente divisa, niente calmiere per il gas, la Germania contraria e ancora si parla di emergenza incendi, scia di fuoco da Montagna Longa a Scopello e infine la giunta alla Galla, quindi siamo nel Comune di Palermo sia al piano triennale e agli interventi contro le buche. Andiamo in taglio alto, eccolo qui torna Re Carlo III, il primo discorso del Re, vi servirò per tutta la vita detto al suo popolo. E ancora il focus sul giornale di Sicilia, si cita record e crisi economica minacciano pure l'olio siciliano, col diretti dice la produzione va giù del 30%. Lasciamo il giornale di Sicilia, restiamo nell'isola, vediamo adesso cosa ci propone stamane l'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica, si parla di crisi, si parla di caro bollette ed è questo il titolo in primo piano, negozi in ginocchio per le bollette a rischio 15.000 posti di lavoro e siamo davvero in piena crisi. Comfcommercio, rincari del 700% in Sicilia senza misure, entro due mesi chiudono 4.000 aziende. Il 15 settembre nell'isola insegna e spente per protesta le storie dei titolari e dei dipendenti, qui si parla di lavoratori a rischio, qui si parla di famiglie a rischio ed è una situazione davvero davvero critica. In taglio centrale c'è la foto di una più giovane, molto più giovane, vedete regina Elisabetta, siamo nella 92 a Capaci, 5 giorni dopo la strage, quell'inchino della regina per Falcone, davvero una bella foto, una foto decisamente storica e importante. Il caso in questo caso, vediamo di che si tratta, il caso in questo caso, il gioco di parole che può starci, la regione non sblocca 900 milioni di versamenti alle imprese ed è in effetti un vero e proprio caso. E ancora le elezioni, dalle cliniche alle autoline, così Schifani corteggia le lobby. E c'è spazio chiaramente stamattina anche per il calcio, perché la vittoria di ieri del Palermo è stata pesantissima, il Palermo riprende la corsa, Bruno ristende il Genova, vittoria come detto davvero preziosa per gli uomini di Corini. L'inchiesta, ieri ne abbiamo parlato parecchio nel corso delle nostre edizioni di Spazio e Notizia, si pagava foto e meccanico con i soldi della società municipalizzata, parliamo di un ex liquidatore di una società partecipata del comune di Palermo che appunto utilizzava i soldi pubblici per affari personali, per acquistare beni personali. Lasciamo Repubblica a Palermo, però adesso restiamo su Repubblica, l'edizione nazionale, si parla di gas, della non decisione dell'Europa, vedete l'Europa non decide, scrive Repubblica, nulla di fatto al vertice europeo, nuovo rinvio sul tetto al prezzo del metano, prevale il no di cinque paesi, Mattarella spinge Bruxelles, una svolta sul price cap è urgentissima, dal governo dicono siamo ancora fiduciosi, giovani, poveri e precari, solo la Romania fa peggio di noi, sono davvero dati che fanno molto molto riflettere. C'è Re Carlo anche qui in primo piano su Repubblica, Carlo il discorso del re, io al servizio di tutti, successione al trono d'Inghilterra. Lasciamo Repubblica, siamo sul Corriere della Sera, partiamo proprio dal nuovo re, il debutto del re, cara mamma, servirò fino alla fine, triste e sereno e ha escluso di abdicare. Intanto ovviamente grande lutto per la morte della regina Elisabetta, fiori, lacrime, il lungo eddio Elisabetta II, vedete la folla e il lutto, in questo momento l'Inghilterra sta vivendo un momento certamente difficile, un passaggio storico. Tetto al gas, solo piccoli passi, scrive il Corriere, ma entro il 15 la proposta alla Commissione Europea, Berlino frena, Mattarella dice bisogna superare le resistenze, Salvini servono 30 miliardi contro gli aumenti, Meloni no allo scostamento di bilancio e Letta dice Rinneghi, Orban. Siamo sul quotidiano La Stampa, che qui vedete si prende la prima pagina, Re Carlo, io re per tutta la vita, primo discorso e bagno di folla per Carlo III, mia madre un esempio ha dichiarato. La politica verso le nazionali con Giorgia Meloni che punta al 30%, il piano di Fratelli d'Italia per staccare gli alleati, scontro tra PD e Movimento 5 Stelle intanto su armi e lavoro. Lasciamo anche la stampa, siamo sul quotidiano Libero, eccolo qui, Letta parte su un carro funebre, l'ultimo tragico Enrico scrive in questo caso Libero mettendo, vedete, la foto di questo furgone elettrico messo in campo dal PD per il tour elettorale di Enrico Letta. Notizie in primo piano, il loro cronista è una spia, bufera su Tg1 e Repubblica l'accusa degli ucraini, il giornalista ferito nelle zone occupate da Mosca inserito nella lista nera di Kiev, giallo sulla dinamica del ferimento. E poi le parole del nuovo re, regnerò fino alla morte con l'amore di Camilla, queste le parole di Carlo Terzo. Occhio invece a questa notizia, abbiamo 28 milioni di vaccini che stanno per scadere questa l'ammissione del governo e dunque tanti tanti soldi che volano via, soldi sprecati. Andiamo avanti, lasciamo il quotidiano Libero, siamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, questo il titolo di apertura, Meloni Mattarella, due incontri, c'è aria di Inciucio, scrivono i colleghi del Fatto. Grandi manovre al Colle, due vertici segreti ad agosto, ora il Fido Crosetto invoca da tutti un clima unitario, la paura di governare fa 90, scrive il Fatto questa mattina in prima pagina. Siamo sul giornale, si parla in questo caso di multe o meglio di multe da pazzi, vergogna, aumento del 10%, nonostante la crisi energetica e con la scusa dell'inflazione, nel 2023 le contravvenzioni diventeranno più salate, Gasparri dice Fratelli di Italia, forza Italia scusate, lo impedirà. Gas, Bruxelles in Pantana, ancora un nulla di fatto. E poi un giro, vedete, tra le forze politiche in vista delle elezioni, si parte da Berlusconi, dice il mio piano su energia e caos rifiuti, PD rimonta impossibile, inizia già il dopoletta, Draghi mossa atlantica prima delle elezioni con il Premier che vola a New York. Lasciamo anche il giornale, siamo sul quotidiano La Nazione che dedica ampio spazio al primo discorso del nuovo re nel nome della madre, scrive appunto La Nazione, il discorso del re vi servirò per tutta la vita e poi le lacrime di Londra, come detto una città ma non solo in grande lutto per la morte di una regina amatissima. Siamo sulla prima pagina del quotidiano del tempo, questo è il titolo di apertura, il tranello dei sondaggi, le ultime rilevazioni danno il centrodestra in forte vantaggio alle urne, ma nelle precedenti votazioni i pronostici smentiti dai risultati finali a stensione, scampoli d'estate ed esito scontato possono portare a delle sorprese. E poi anche qui il discorso di Re Carlo, meglio il primo discorso di Carlo III, prometto di servirvi tutta la vita. Queste le sue dichiarazioni. Ed ora andiamo a vedere le prime pagine sportive, Gazzetta, Corriere e Tutto Sport, oggi si torna in campo, giornata di campionato ma ci sono anche altre notizie. Allora andiamo intanto sulla Gazzetta dello Sport, c'è il Milan sotto i riflettori con il centrocampista Sandro Tonali che rinnova con il club Amore Milan, scrive La Rosia, il giovane leader ha firmato fino al 2027. Il centrocampista allunga il contratto, ora è un fedelissimo del club rosso-nero, avrà l'ingaggio raddoppiato dopo che lo scorso anno se lo era ridotto. Dunque Tonali si candida a diventare una bandiera di questo Milan. Oggi in campo anche l'Inter che ospite il Torino, Inter e Toro chi si fa avanti, Inzaghi per ripartire punta sull'autaro ma attenti a Vlasic, dunque partita importante. Ma gioca anche il Napoli in campo al Maradona contro lo Spezia, il Napoli prova il decollo con Simeone alla guida. Questo il titolo della Gazzetta che poi si sofferma anche sulla Ferrari, le parole del presidente Elkan. Ferrari mondiale entro il 2026, per Binotto dice ho fiducia e riconoscenza però dobbiamo maturare, facciamo troppi errori. E poi sulla Juve, la Juve vincerà questo campionato di Maria a quei giovani e la formula giusta. Dunque il presidente Elkan, vedete, è molto fiducioso sia per quanto riguarda la Ferrari in ottica futuro ma anche per la Juve. Siamo sul Corriere dello Sport, qui invece c'è il Napoli in primissimo piano, scalda Napoli, questo il titolo Osimen-KO, ma gioca Raspadori, Spalletti e il Mila puntano alla vetta, oggi anche Rossoneri in campo contro la Sampdoria. Alle 15 il tabù spezia per non disperdere l'entusiasmo post-Liverpool. Inter, Toro senza appello, Zhang incontra Goldman Sachs. Zhang quindi sta progettando la cessione del club nerazzurro. Siamo invece su tutto sport, Juve-Torino in primo piano, partiamo dalla Juve, Paredes verticale, intervista a Sabatini che lo portò alla Roma, nessuno verticalizza come lui e può segnare 10 gol. L'argentino convinco io di Maria a restare un anno in più alla Juve. E poi il Toro, che come detto oggi affronta l'Inter, Vlasic agita in zaghi e l'Inter ha un compratore. Reduce da tre gol di fila, il Croato guida il Toro al primo vero esame, da grande contro nerazzurro in difficoltà, Juric con la polmonite invitato a non andare a San Siro, Randivè proprietario dei Sacramento Kings si fa sotto per rilevare il club di Zhang e dunque dopo il Milan che è stato appunto acquistato dagli americani, c'è anche Lebron James, insomma tante situazioni. Chissà che adesso non ci sia invece, vedete, un proprietario di un club di basket interessato all'Inter, sono segnali dei tempi che cambiano o meglio che sono già decisamente cambiati. Noi intanto chiudiamo questa rassegna stampa odierna, anche oggi abbiamo fatto un bel giro, abbiamo visto tanti argomenti interessanti, adesso ci fermiamo qui ma l'informazione non si ferma su Sicilia 24, ci ritroviamo più tardi per le nostre varie edizioni di Spazio Notizia, dunque rimanete con noi, a dopo.